Ciao a tutti e benvenuti in un altro video vlog effettivamente sto preferendo di fare vlog perché i video statici non riesco a farli ma non perché non voglio perché ho la mattina per poterli fare ma anche il sabato e domenica ma due volte ho gente dentro casa quindi non riesco a fare i video statici e poi non ho idee per i video statici quindi faccio direttamente i vlog in modo da essere un po' più di poter essere libera anche 10 minuti da poter dire faccio quello faccio quell'altro e poi mettere a videocamera senza parlare quindi è più facile fare così infatti adesso io mi sto vedendo Mayday, l'air disaster, una mezza specie di indagini all'alta quota e mi do mettere a finire di fare questi cuscini arancioni gialli che come avevo detto nel video precedente domenica stavo totalmente il tilt il giorno poi lasciavo direttamente perdere dopo l'ho riflettuto con una parente che era io nuda che non l'avevo fatta più lungo ma dovevo fare tipo l'angoletto e adesso il tempo che finisce diciamo indagini all'alta quota dopo metto un podcast su Spotify su Alexa e mi metto a fare quello perché guardare la televisione non è che mi piace tanto a me non c'è stato un programma tipo coppia in affari e roba così che ascolto solo e non mi interessa guardarlo mi cerco, indagini all'alta quota mi piace proprio vedere proprio il filmato tendo a mettere un podcast su Spotify di solito metto la Carlo Lucarelli di solito che mi piace come narratore quindi metto quello o se no mi metto un po' di musica prova la musica dopo mi rincoglionisce un pochetto quindi tendo a evitarlo vabbè ci vediamo dopo nel pomeriggio o nei prossimi giorni ho fatto questo caricato di venerdì o nei prossimi giorni faccio sempre in condizioni ricenti comunque sono lavati i capelli allora oggi è uscito il video completamente in ritardo tipo alle 8 di sera oddio in questo momento sta caricando ma penso che per le 8 sia carico in compenso tra ieri e oggi ho finito le federe di cuscini quelle gialli che avete visto sia nelle clip precedenti che nel video due video precedenti se riesco vi faccio una foto la metto qui sopra se no vi faccio le clip in giro in fondo del video dopo questa clip non so se riesco sempre a registrarla prima di consegnarla allora sono qui nella camera che era di mia nonna che è diventato uno stenditoio circa io sono nello specchio allora questi sono i cuscini tre cuscini questo qua è quello questo qui è quello doppio che ha doppia cosa infatti vedete che questo è un po' più grosso questo di questo qua o lo lascio così ho chiesto a mio padre di tagliarlo proprio vediamo questi sono i cuscini come sono i nudi oppure questo ha chiuso la lampola faccio questa clip giusto per finire il video come sempre io ho i sportelli aperti ci vediamo al prossimo video che è i show uniti domenica c'è solamente uno show stupi c'è ciao